Ricordiamo che per la prima volta dopo la risistemazione dei canali siamo sul 134, canale nazionale, questa volta rispetto in diretta, ecco ci tengo a dirlo in diretta, sono 22, 29, in diretta nazionale. Ecco ricordiamo, grazie a regia, ogni mercoledì insieme alle persone è stata sul canale 134 e in contemporanea sul 164. Ringrazio Marco Minannato, dirigente Forza Italia e Cittadella per vicace attaccamento alle guida del partito, Cittadella evidentemente è l'unisola felice, alla ricerca dell'imprenditore felice che finora non abbiamo trovato, però noi continuiamo la ricerca. Alessandro Dianin, mi ha fatto molto piacere, te lo sai Alessandro, abbiamo sempre invitato giovani qui in trasmissione, non a parole ma concretamente crediamo nei giovani, chissà che ci sia più spazio per voi, per le vostre esigenze, per manifestare le vostre necessità anche in politica. L'onorevole Sergio Berlato ci ha illustrato argomenti anche di carattere sociale ed economico, l'auspicio di tutti e mi associo a quello che ha detto che questo governo si accorga che c'è un problema negli italiani. Onorevole Presidente Draghi, con la stessa facilità con cui lei ci ha chiuso e ci ha aperto e ci ha imposto il Green Pass due mesi prima per gli over 50, anche se non li mostro più di 50 anni, alla fine con la stessa rapidità lei ha mandato armi in Ucraina, con la stessa rapidità pensi ai problemi italiani, a risolvere i problemi economici, a ridarci con la libertà che ci ha negato, perché se non miglioriamo l'economia il nostro benessere verrà compromesso. Questa cosa lei lo sa e deve intervenire. Vi invito a mercoledì prossimo insieme idee e persone. Grazie, alla prossima.